In Basilicata ora per il caso delle tenso strutture donate a maggio dal Qatar per ospitare pazienti Covid e non ancora entrate in funzione. L'inviate Silvia Balducci. Si è perso del tempo e adesso va recuperato in fretta. L'appello di un infermiere davanti a questi tendoni sono vuoti, dovevano diventare un ospedale. Strutture donate dal Qatar alla Basilicata arrivate a maggio e mai attrezzate. Vanno infittite queste strutture secondarie di collegamento per poterle rendere compatibili al carico neve. Tre tendoni a potenza, altri due sotto l'ospedale di Matera, le gare per i rinforzi e gli arredi partite solo a metà ottobre. Se le tende non sono ancora funzionanti è drammatico, più che paradossale, è drammatico perché non possiamo pensare di rinunciare a tutto il resto dell'assistenza. Ospiteranno 60 pazienti Covid e un'area per i tamponi. L'entrata in funzione è prevista a metà dicembre. Ce le prendiamo tutte le responsabilità nella gestione della sanità. Si viene detto ti regaliamo l'ospedale fornito dal Qatar, invece dell'ospedale ci arrivano queste tende. Si poteva usare l'estate però. Perché cosa? Mancavano i finanziamenti. Oltre un milione di euro, fondi che alla fine arriveranno dal ministero, ma la Basilicata sta attraversando la sua fase più dura. L'emergenza è già dentro gli ospedali.